Si è tenuta questa mattina a Riva, alle 11, una breve cerimonia di inaugurazione del rinnovato Parco della Pace, accanto alla stazione delle Corriere. I problemi degli scorsi anni, legati ai ripetuti vandalismi, ha obbligato l'amministrazione comunale ad effettuare un intervento che in qualche modo mettesse in sicurezza il parco, che occupa circa 8.000 metri quadrati. Inaugurazione oggi del rinnovato Parco della Pace a Riva del Garda, quali sono state le novità sostanziali che sono state apportate al parco? Tanto buongiorno, grazie, è stata fatta su richiesta dei censiti una recinzione del parco, di tutto il parco, visto che c'erano state delle problematiche di vandalismo notturno, e quindi i censiti della zona avevano chiesto una recinzione con un cancello temporizzato, con un'apertura che va nel periodo estivo dalle 8 del mattino alle 22, nel periodo invernale dalle 8 del mattino alle 8 di sera. Oltre alla recinzione del cancello temporizzato è stato risistemato un pochettino il parco, è stata creata un'area sgambamento cani attrezzata con fontanella, composto con panchine in maniera tale da fornire ai cittadini che hanno animali la possibilità di avere un posto tranquillo, piacevole qua nel centro di Riva del Garda. Chi ha realizzato i lavori? Chiaramente i lavori sono stati seguiti dall'ingegnere capo Sergio Pellegrini e dal geometra Panchieri a Ivano Malossini per quanto riguarda il servizio manutenzione del comune, sono stati realizzati dalla ditta Franzinelli Lucca di Ledro che ha fatto l'offerta migliore e per quanto riguarda la parte elettrica dalla ditta Grotto Loclara di Riva del Garda. L'importo è stato un importo di circa 30 mila euro di spese per le imprese più i lavori fatti chiaramente dal servizio manutenzione del comune.